sarà vero sarà falso è scoppiato un dissing tra gaia bianchi e rondo io sono andata avanti nella vita vorrei che anche i miei ex lo facessero cioè è lui che mi ha lasciato è lui che mi ha tradito e ancora che mi sta presto che mi ma baffa c'è stata una polemica su gaia bianchi e il funerale di suo nonno muore il nonno e fa i tik tok ciao scappati di casa io sono fabrizio e valerio il mio cognome benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di tg talk il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di tik tok è scoppiato un dissing tra gaia bianchi e rondo sarà vero sarà falso o sarà che non ce ne frega un c***o prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio anche il peggio di tg talk vi ricordo poi anche di seguirmi su instagram dove mi trovate come fabrizio valerio ed ovviamente anche su tik tok visto che di questo che parliamo dove sono sempre fabrizio valerio ed eccoci qua ragazzi nuovo tg talk nuove notizie super super shock che vi devo raccontare a grandissima richiesta torniamo a parlare di una delle creator più discusse di sempre io l'ho soprannominata alla regina dei dissing dei drammi delle frecciatine perché parliamo di gaia bianchi sì proprio lei che già qualche tempo fa aveva fatto largamente discutere per via dei dissing con il suo ex fidanzato i denti te li ho pagati o bla 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 se vi siete persi comunque quel video ve lo lascio qui nella i di informazioni oggi invece ci occupiamo appunto di tutte le polemiche i dissing i drammi che hanno visto proprio protagonista gaia bianchi ed io direi di partire subito letteralmente col botto parlando del dissing che gaia ha avuto con il suo ex fidanzato rondo da sosa sì ragazzi lo conosciamo tutti quanti questo cantante super famoso che vi dico anche di più ci sarà in una puntata di muschio selvaggio quindi insomma staremo a vedere quello che succederà dalle anticipazioni che ho visto devo dire che promette bene questa intervista ma a parte questo che cosa succede rondo ha pubblicato una sua nuova canzone per farlo ha deciso di pubblicare nelle stories di instagram un pezzo della canzone con anche dei video in questo video c'è gaia bianchi sua storica ex fidanzata e la canzone fate bene attenzione dice insomma tutte le mie ex sono delle puntini puntini ed ovviamente ragazzi voi capite che di fronte a tutto questo poteva secondo voi gaia bianchi non rispondere beh ovviamente no certo che ha risposto oh mio dio sono super emozionated ed è per questo che gaia bianchi subito dopo la pubblicazione di questa storia da parte di rondo ha deciso di rispondere lo ha fatto tramite una diretta su instagram dove l'abbiamo vista come non mai molto innervosita molto arrabbiata e ad un certo punto ha detto ma insomma vai avanti e non ha avuto delle parole come posso dire tenere nei confronti del suo ex rondo ma ascoltiamo insieme ciò che ha detto e poi lo commentiamo guardate dopo due anni quasi che ci siamo lasciati ancora devo essere insultata e sono una troppa e sono una gruppi del cazzo e faccio la puttana e ma ragazzi ma ragazzi ma andiamo avanti nella vita mannaggia il clero cioè boh siamo fermi sempre sulle stesse robe raga cioè e poi se mi sono appena svegliata appena svegliata mi hanno mandato in 3000 la storia ora non so se l'abbia tolto o meno ma ragazzi ma datevi una svegliata c'è il mondo fuori ok non ci sono solo ste robe da mettere sui social per screditare la tua ex e basta ok solo perché tirò del culo e non vai avanti nella tua vita di m***a perché non trovi una tipa con i c***i che ti dice le cose e che è una tipa con la testa che ha la testa capito e tu non trovi nessuno perché ti sei sempre accontentato delle p***e ok e ancora dopo due anni che ci siamo lasciati quasi sei ancora lì a insultarmi a sminuirmi come hai sempre fatto hai rotto i c***i hai rotto i c***i faccio la diretta perché l'ho bloccato tanto e non gli scriverò mai porca p***a ragazzi oh due anni due anni ma vai avanti nella tua vita vai avanti c'hai c***i tuoi come ti sei sempre fatto i c***i tuoi continuo a mi c***i perché non dico niente ed escono spoiler ed escono le canzoni è la troia della p***a è una gruppi del c***o è come tutte le altre ma hai rotto il c***o hai rotto mica cioè mamma mia cioè io voglio bene a tutti i miei ex a tutti giuro a tutti dopo anche tutto quello che mi hanno fatto a tutti però non è possibile che ogni volta per capito per attaccare io devo essere attaccata ma vai avanti nella tua vita minchia mi vengono le crisi raga ma io non posso vivere così cioè mamma mia cioè io sono andata avanti nella vita cioè vorrei che anche i miei ex lo facessero no raga minchia io porto sempre tutti sono sempre zitta cioè se non l'ultimo mio ex non è che gli sputtano capito ma essere sputtanata da due anni a sta parte da uno che non va avanti nella sua vita di m***o adesso mi viene una crisi che veramente dico che c***o di problemi hai capito cioè porca c***o cioè è lui che mi ha lasciato è lui che mi ha tradito e ancora che mi sta apprezzo che mi ma vaffa mi insulta ma ragazzi ok adesso torno una persona seria adesso so che succederà un casino io già lo so però mi sono rottata ragazzi veramente ok ce l'ho fatta va bene non vi dico che messaggi mi stanno arrivando va bene ora vi saluto però mi sono rottata ragazzi fatevi una vita perché io sono tranquilla io sto sto facendo i c***o hai capito ed effettivamente diciamo ce lo sono passati anche ormai giorni mesi anni dalla rottura con rondo no cioè tra rondo e gaia bianchi l'amore è finito o meglio qualcosa forse è rimasto perché io ho visto anche un estratto di una intervista a gaia bianchi dove comunque ricorda con piacere se vogliamo no questa storia d'amore molto tormentata e allo stesso tempo anche molto importante no però quello che mi preme dire in questo momento è che effettivamente dopo tanto tempo e dopo tantissime frecciatine anche che appunto rondo ha lanciato a gaia bianchi credo fortemente che sia anche arrivato il momento veramente di cambiare pagina cioè di voltare pagina di andare avanti ok ci sono le storie nel passato ma appunto lì devono restare perché il rischio purtroppo poi in queste situazioni è che c'è chi poi ha detto eh vabbè ma rondo ha pubblicato questa storia queste frecciatine solo per far parlare di sé solo per far ascoltare la sua musica eccetera eccetera quindi il rischio poi è quello anche di essere accusati di hype e insomma io credo che rondo non abbia bisogno di questo hype spicciolo da parte del gossip no però insomma tutto può essere ci sono state anche ovviamente queste accuse adesso però voltiamo pagina perché giorno dopo giorno gaia bianchi finisce al centro di un'ennesima polemica eh cos'è cosa qualche giorno fa infatti sui social gaia bianchi ha condiviso dei video delle stories su instagram nelle quali ci ha raccontato che è venuto a mancare il suo nonno infatti io a prescindere da tutto quello che sto per raccontarvi voglio lanciare un grande abbraccio a gaia bianchi a tutta la sua famiglia a tutti i suoi cari perché non deve essere semplice affrontare un lutto non lo è mai ovviamente non siamo mai pronti a dire addio ad una persona a noi cara e questa volta è capitato proprio a gaia bianchi che ha dovuto salutare per l'ultima volta il suo nonno che cosa succede succede che ad un certo punto gaia bianchi pubblica nelle sue stories questo credo che fosse il piazzale della chiesa no e vediamo appunto che si tratta di un funerale c'è una colomba c'è una nuvoletta ed ovviamente capite che è chiaramente una storia dedicata a suo nonno che cosa succede succede che in un secondo momento gaia bianchi pubblica questo video lo starete vedendo l'hai vestita tutta di nero con anche un cappello come posso dire peloso e scrive nella descrizione di questo video un triste mercoledì era esattamente il giorno del funerale di suo nonno che è venuto a mancare e tantissime persone nei commenti si sono strette a lei al suo dolore a quello della sua famiglia scrivendo condoglianza adesso anzi voglio leggervi anche qualche commento che mi pare di aver salvato no eccolo qua condoglianza e gaia tuo nonno ti guarderà da lassù ed in realtà credevo di aver salvato tanti altri commenti positivi ma sicuramente li ho letti e li ho anche visti no ci sono tantissime persone che in un momento così delicato sono diciamo hanno voluto dare un abbraccio virtuale no a gaia e che cosa succede ad un certo punto sotto nei suoi commenti dei video appunto ma in particolar modo su twitter dove è nata questa polemica viene detto questo e adesso qualcuno di voi si arrabbierà secondo me eccolo qua non lei che va al funerale di suo nonno e crede di essere in pretty little liars e c'è poi chi dice beh voi ridete scherzate ma a volte mi capitano clienti che cercano l'outfit per un funerale ed anche molto esigenti ancora non me ne faccio una ragione quindi insomma capiamo che l'accusa che viene mostra a gaia bianca è questa tu sei lì al funerale fai il video e pensi di essere in pretty little liars perché per chi non l'avesse visto è una serie televisiva dove spesso e volentieri ci sono dei funerali ma non è questo il focus del nostro discorso perché c'è chi appunto dice muore il nonno e fa i tiktok ma chi è la persona che fa tiktok ad un funerale riposa in pace angioletto funerale ma sì ma fammi fare un bel tiktok insomma queste sono le accuse che vengono mosse nei confronti di gaia bianchi accusata di aver fatto questo video durante il funerale di suo nonno allora innanzitutto facciamo chiarezza perché secondo me c'è sempre come sempre c'è tantissima confusione in tutto quello che viene captato qua sui social gaia ha pubblicato una foto l'ha fatta lì nel piazzale della chiesa dove c'è stato il funerale in questa foto non si vede nulla se non delle persone vicino ad una chiesa c'è di più c'è di più perché ad un certo punto viene condiviso questo video appunto dove lei dice un triste mercoledì con in sottofondo parole di ghiaccio di amy schilla che è una canzone molto bella anzi se non l'avete mai ascoltata vi invito ad ascoltarla c'è chi ha detto questo video insomma viene fatto durante il funerale non è così perché se vediamo attentamente questo video si capisce che lei stia uscendo da casa sua o da casa di qualche altra persona e basta non era lì nella chiesa non era il cimitero non era nel piazzale lì della chiesa a farsi il video ma se anche fosse ragazzi qual è il vostro problema io credo fortemente che oggi come oggi chiunque tramite i social voglia dire la sua che per carità siamo qui ci esponiamo pubblicamente gaia un personaggio pubblico è anche giusto no trovarsi come posso dire al centro di una critica di una polemica eccetera eccetera quello che però veramente mi lascia un po all'amaro in bocca è vedere come tantissime persone si siano indignate di fronte ad un video semplicissimo di una ragazza che ha appena perso il nonno e che dice un triste mercoledì e basta e si sono anche permessi di giudicare il lutto come sta vivendo il lutto una persona io credo veramente che non spetti a voi a noi a chiunque di giudicare il dolore di una persona di giudicare il lutto di una persona e di veramente avanzare delle accuse orrende anche perché io credo che la vita comunque a prescindere vada avanti se una persona vuole fare i video vuole fare i tiktok vuole fare le foto che le faccia perché se questo è il suo modo di comunicare il suo dolore il pensiero per una persona che non c'è più insomma lo abbiamo fatto in tanti no ed io se faccio una cosa ad esempio per ricordare mio papà che non c'è più mi arrabbierei molto se qualcuno si permettesse di giudicarmi perché perché non lo farei mai con un'altra persona non giudicherei mai il suo dolore il suo lutto quindi insomma mi ha veramente abbastanza lasciato senza parole questa marea di commenti no dove addirittura ha fatto delle foto al funerale ma sono anche cose non vere quindi non lo so ragazzi io calo un velo pietoso su tutto quello che ho letto e anzi colgo l'occasione nuovamente per mandare un grandissimo abbraccio a gaia perché non solo stai vivendo un lutto ma addirittura devi sentirti dire delle cose assurde da gente che manco ti conosce si permette di commentare criticare e giudicare il tuo dolore inaccettabile arrivati a questo punto però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate un mega drama dissing video completo riassuntissimo di tutto quello che è successo e che ha avuto come protagonista gaia bianchi che insomma non si ferma un attimo è sempre al centro di una polemica è sempre cento di un dramma e spesso e volentieri non per causa sua non per scelta sua eppure è così insomma il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi io e mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video vero mark vai saluta mark vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato ciao grazie a tutti